Ma non ho visto mai, la cossi non ne hai visto mai! Io non l'avevo vista mai manco io! C'è cosa sta attarando benzo da quanta 500m dall'aria? No, sì! no a più non lo pareva solo rossura, no? e io non lo facevo, non lo facevo, non lo facevo. è strano dall'aria mi dico che ti sta registrando cosa facendo ti che non ti sta registrando e farà un deserto magari, certo un fratto mare è un cretino mi ha un po' più sciomoto di mia non c'è la Francesca, ci sono le esce la videocamera Sì, non è vero che il piccolo è il video che non è così Ma non è vero, non è vero, non è vero Pocco Dio Ah, no Non è vero, non è vero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.